Amici di Milan.soccer, eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera. Prima di cominciare, come sempre, una piccola raccomandazione. Intanto grazie a tutti coloro che si sono iscritti, quindi la raccomandazione è, per chi non si fosse ancora iscritto, di farlo qui sotto. Sì, è gratuito. Come è gratuito? Il pollicione. Cliccatelo, cliccatelo, ed entrerete a far parte gratuitamente del mondo di milan.soccer. Per i più milanisti, più temerari, più in basso, link in descrizione, il libro Romanzo Milan. Amazon ve lo porta a casa. Ci siamo. Avete visto la copertina? E sì, perché perlomeno tutto lo sforzo profuso, diciamo un po' da questo piccolo canale, YouTube, è stato, diciamo così, riconosciuto in tutto e per tutto dagli atteggiamenti e dalle iniziative che Gerry Cardinale ha preso nel corso della sua permanenza a Milano. No, noi non è plurale maestatis. Qui con me c'è Alienino, o meglio, il fratello, perché entrerà in redazione il fratello di Alienino, è qui con me a New York. Siamo a pochi passi dalla sede di Redbird, ma non è quello che conta, perché non abbiamo nessuna entratura per poterlo, non dico intervistare, ma per potergli dire esattamente le cose. Però il fatto sta che noi adesso scendiamo, andiamo verso il suo ufficio, da qualche parte dovrà pur passare. Però anche in questo senso ci tengo a sottolineare come mi sto facendo una grande cultura di giornali sportivi americani. E ovviamente c'è tanto Milan, perché tra l'altro tra le strade di New York, ieri ero, non so se avete visto i video precedenti, nel più grande centro commerciale del mondo, nel New Jersey, quindi a pochi chilometri da New York, e c'erano persone con la tuta del Milan. Poi sotto l'albergo sono passati dei ragazzi con il cappello del Milan. Insomma, qui si vede solo Milan. Ok, però noi non siamo soddisfatti di essere i più amati tra le squadre italiane nel mondo. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più. E allora Cardinale, quando è arrivato a Milano, la prima cosa che ha fatto, c'è questa forma di innamoramento, è stata quella di incontrarsi, né con il presidente, né con l'amministratore delegato, neppure con altri, ma con il suo advisor, cioè con Zlatan Ibrahimovic. E hanno avuto un incontro, un incontro poi chiaro, allo stadio sono andati insieme, ma c'erano tutti, per carità. Ora, tralasciamo tutto quello che è accaduto. La cosa più importante adesso è capire il futuro, cioè capire che cosa si sono detti Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Da alcune indiscrezioni risulta, e questo, diciamo così, un po' mi rasserena, devo essere sincero, che in primis il periodo di Pioli è terminato, e in secondo luogo che Jerry Cardinale ha scelto sì il nuovo allenatore del Milan, ma ha scelto la metodologia, cioè il nuovo allenatore del Milan sarà colui che Zlatan Ibrahimovic intenderà prendere come sostituto. E noi adesso stiamo facendo una ricerca, perché fossilizzarci solo ed esclusivamente sulla prima scelta, sull'incontro tra Jerry Cardinale e Conte, sulle iniziative prese dal Milan, non è sufficiente. Perché spesso e volentieri, guardate l'affare Popovic, che non c'entra niente, ma c'entra eccome. Popovic è arrivato a Milano per firmare con il suo entourage, e domani probabilmente firma con la Juve. Cioè, le cose sono così difficili da centrare, che anche quando hai preso l'obiettivo e l'hai colpito, e non è detto che poi cada giù a terra, capito? Quindi la questione è sì una questione molto delicata, ma è una questione che oggettivamente va monitorata, istante per istante. Quindi la notizia è che Jerry Cardinale ha dato indicazioni a Zlatan Ibrahimovic di individuare il giusto profilo, nonostante che, ripeto, abbia incontrato Conte che si siano detti cose, il giusto profilo per un nuovo ciclo. Ora, io voglio fare una mia considerazione tutta personale, ed è questa. Non ho mai amato i presidenti padroni e competenti di calcio. Il presidente, così lo definisco, Scaroni, sei solamente, come dire, un po' come possiamo definirlo. Beh, sì, come un jolly, ecco, un portavoce, un portabandiero, un brand ambassador, un po' come Daniele Massaro. Sì, perché Daniele Massaro è uno dei brand ambassador del Milan, solo che lui ha il ruolo di presidente. Quindi quando dico presidente, dico proprietario, Redbird. Non ho mai amato, al di là delle butade del grande Silvio, presidente del Milan, in cui diceva bisogna giocare con un 4-4-2, con un 4-2-3-1, insomma, al di là di tutto questo. Poi chi vince ha sempre ragione, non ho mai amato un presidente padrone che interceda il fatto che, anche questa volta, io ho apprezzato l'atteggiamento. Cioè, non ho apprezzato l'atteggiamento nella scelta dei dirigenti, perché si sapeva che avremmo fatto questa tragedia. Un ragazzo capace dal punto di vista dell'intelletto, ma privo di esperienza, non può fare l'amministratore delegato, il direttore sportivo, andare a parlare con i vari Marotta e dintorni. No, bisogna prendere uno alla Marotta. Bisognava prendere uno alla Marotta prima di prendere un allenatore. Perché poi contano, è come, i parametri zero, le capacità di interconnessione. Quindi l'errore di Gerry Cardinale non è stato quello di dare fiducia a Pioli, ma di aver scelto dei dirigenti che non sono stati all'altezza. Ora, io sono molto titubante su Ibrahimović. Perché? Perché non ha, diciamo così, quell'atteggiamento, non è marottiano. Cioè, non è uno che è nei meccanismi. Avete visto quanto conta essere nei meccanismi? Conta, ed è fondamentale. Il vecchio Galliani, e poi ancora l'attuale Marotta, e poi i futuri puntini puntini. Non lo so. Ma la prima cosa che ha fatto la Juventus, quando ha cambiato tutto, è stata prendere il direttore sportivo del Napoli. Bravo, non bravo, non lo so. Però è stato prendere un direttore sportivo che è dentro. Non prendere un bocconiano e dirgli fai l'amministratore delegato. o uno che va in giro per campi a guardare gente e dirgli fai il vice dell'amministratore delegato. Questo è stato l'errore. Ora, Zlatan ha competenze nel calcio. Sì, ma non ha queste entrature. Quindi se non correggiamo l'errore alla fonte e non prendiamo un direttore sportivo forte, noi non ne usciremo mai da questa crisi. E quindi, però, siccome salta questo step, questo signore non capisce il calcio italiano, Gerry Cardinale, non lo capisce. E allora salta questo step, ci ritroviamo oggi, come ieri, con Maldini, che era comunque un esperto e non aveva entrature, però perlomeno ha portato dei risultati. Poi ci siamo ritrovati con questi furlani in Moncada, che non solo non sono esperti, ma non hanno portato risultati. E oggi ci ritroviamo con Zlatan. Noi abbiamo bisogno di un direttore sportivo bravo. Ci sentiamo più tardi perché vi do le news anche per quanto riguarda gli allenatori. Ciao.